Le priorità per la provincia di Caltanissette, il deputato regionale Giancarlo Cancelleri fa il punto dopo la visita del ministro Toninelli in città, passa e rassegna tutti gli argomenti affrontati dai crediti CMC alla legge sugli appalti. Gli incontri molto importanti oggi a Caltanissette per ridare senso di centralità non solo geografica ma anche viarie. Il ministro Toninelli ha voluto incontrare le imprese creditrici della CMC per mantenere viva l'attenzione su quello che è un problema fondamentale. Il diritto dei cittadini a muoversi e quindi ad avere questa infrastruttura ma il diritto di tante imprese, di tanti lavoratori a vedere invece i loro lavori e i loro sforzi pagati e riconosciuti e quindi senza che nessuno ne abbia un danno. E questo è stato il primo appuntamento all'ordine del giorno voluto fortemente dal sindaco di Caltanissette e Roberto Gambino. Adesso nel pomeriggio stiamo affrontando invece insieme alle tante imprese siciliane quello che è la legge sul nuovo coice degli appalti per trovare sempre migliori soluzioni. Questa è una cosa importante perché avere un ministro e un governo nazionale che ascoltano il territorio e che ascoltano le imprese significa migliorare la qualità legislativa del nostro paese e dare sempre nuovi strumenti e migliori a tutte quelle imprese che operano ogni giorno nella nostra Sicilia.